Nasce a Trani la prima web tv pugliese dedicata alla diffusione delle attività del terzo settore. Nasce da un'idea di due giovani ragazze. Vediamo. TV Andorò della Puglia che non ti aspetti è l'idea di due giovani ragazze di Trani, Luisa e Teresa. Hanno in comune la passione per la propria terra e l'impegno nel terzo settore da sempre. La volontà di mettersi in gioco proponendo idee innovative utilizzando il web hanno quindi deciso di voler valorizzare il territorio e il mondo del volontariato con una web tv. Il progetto mira a promuovere i luoghi inesplorati della Puglia e le punte di diamante di un intero territorio. La prima web tv pugliese che si occupa di promuovere e valorizzare il terzo settore in maniera particolare con le forze sussidiarie in grado soprattutto in questi ultimi periodi di soprire quelle che sono le carenze degli enti pubblici e poi anche del territorio. Del territorio inteso come la Puglia che non ti aspetti. Quindi andare alla riscoperta di nuove realtà territoriali e portare alla ribalta come punta di diamante di un sistema di qualità praticamente sommerso. In che modo riscoprire il territorio e parlare della Puglia che non ti aspetti? Appunto on the road girando per tutta la Puglia andando di persona quindi conoscere in maniera diretta il posto e il luogo e dare meno risalto a quelli che sono già i paesaggi conosciuti e ridare più risalto invece a quelli che meno fortunati. Quindi cercare di valorizzare attraverso quello che è un canale web oggi la portata di tutti più o meno di tutti la nostra terra. Teresa e Luisa hanno fondato un'associazione terra madre vincitrice del bando Principi Attivi 2010 della regione Puglia con il progetto TV on the road la Puglia che non ti aspetti. L'associazione nasce all'incirca appunto un anno fa quando decidiamo di partecipare al bando Principi Attivi 2010 dopo un'esperienza avuta con Luisa all'interno di un'altra associazione l'Avis ci siamo conosciute durante il servizio civile appunto abbiamo pensato dato che abbiamo visto comunque le carenze e la necessità comunque dell'associazionismo. Grazie